Il treno regionale 5850, di Trenitalia, proveniente da Treviso Centrale, è diretto a Belluno, delle ore 5.43, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Levada, Pederoba, Cavaso, Possagno. Il treno regionale 5852, di Trenitalia, proveniente da Treviso Centrale, è diretto a Montebelluna, delle ore 6.29, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 5865, di Trenitalia, proveniente da Montebelluna, è diretto a Treviso Centrale, delle ore 13.54, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Postioma, Paese Castagnole. Il treno regionale 5755, di Trenitalia, proveniente da Feltre, è diretto a Treviso Centrale, delle ore 14.33, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Postioma, Paese Castagnole. Il treno regionale 5755, di Trenitalia, proveniente da Ponte, nelle Alpi Polpet, è diretto a Treviso Centrale, delle ore 19.19, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Postioma.